Eleonora Vanni, siamo qui alle giornate di Bertinoro per l'economia civile. Siamo qui con il censimento delle istituzioni non profit. Le cooperative e il mondo del sociale rappresentano una fetta importante del non profit. Voi sostenete il censimento? Pensate che sia importante rispondere a questa rilevazione? Sì, pensiamo che sia importante perché avere una base informativa certa, qualificata, da poter utilizzare e su cui innestare una serie di riflessioni, anche quelle che si stanno facendo qui in questo momento, è senza dubbio un elemento importante e imprescindibile. Perché il rischio che le possibili costruzioni di un nuovo futuro, di un nuovo futuro cooperante, possano essere fatte su dei presupposti non certi e con un'analisi della situazione attuale che non ha riferimenti concreti, può essere molto rischioso ed arrivare a risultati molto poco attendibili. Quindi c'è bisogno di dati, c'è bisogno di elementi di conoscenza, ma c'è bisogno ora che siamo nel piano della crisi, corretto? Sicuramente, perché c'è un'urgenza, come si diceva anche qui questa mattina. Allora c'è un'urgenza di partire e bisogna poi darsi il tempo di elaborare, condividere e cooperare per avere risposte e finalità ai obiettivi condivisi.